Eccoci qui, ben ritrovati le 9 e un minuto e noi siamo in collegamento con Napoli con Fabrizio Monsellato, responsabile servizi educativi delle catacombe di Napoli. Buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. Salve, buongiorno, grazie a voi. Eccoci, abbiamo visto prima anche nel servizio, la cooperativa La Paranza vince quest'anno l'European Heritage Award 2022, uno dei premi più prestigiosi da parte dell'Unione Europea per quanto riguarda il patrimonio culturale. Cosa ha significato questo riconoscimento per voi? Ha significato tantissimo, soprattutto una grandissima responsabilità, anche perché per anni la sanità, questo quartiere che comunque è un quartiere che fa parte del centro storico, è uno dei quartieri dove Edoardo, Totò, ne ha parlato tantissimo, ma soprattutto con servizio è quella che è una delle storie importanti di questa città. Era prima un sito cimiteriale paleocristiano, anche greco, fino a poi è diventato anche una strada di passaggio reale con i suoi palazzi, con le sue chiese, con le sue basiliche, che per anni sono state dimenticate, possiamo dire sia a causa di una mala politica, a causa comunque di quello che è successo tramite la camorra, la criminalità organizzata. Tutto questo a causa di un ponte costruito nel 1800, ma ora noi eravamo consapevoli che le nostre bellezze, ma soprattutto le nostre pietre, erano da valorizzare, erano da far vedere a tutti. Fabrizio, c'era una frase nel servizio che mi ha colpito particolarmente, poi è anche una frase celebre, cioè le pietre scartate che diventano testate ad angolo, un po' ciò che è successo con le catacombe di Napoli, ma soprattutto ciò che è successo grazie al compito e allo ruolo di giovani, che di fatto hanno deciso di rimanere su quel territorio, di crederci, di investirci su quel territorio. Quanto è stato importante per voi, per questa esperienza, anche la testimonianza di fede o il ruolo comunque della Chiesa? Guardi, tutto si basa comunque su quella famosa parte del Salmo, anche perché ce l'hanno insegnato da bambini, ci hanno insegnato da bambini ad essere comunque delle pietre, ad essere soprattutto testate ad angolo, e quelle testate ad angolo oramai si sanno sentire, sono diventate compatte. Non so se noi alle catacombe abbiamo il pastore di Erma, questa visione, in questo libro molto antico, dove queste pietre compattate costruiscono una torre. Quindi per noi giovani, per noi comunque abitanti di questo quartiere, essere compatti e costruire insieme significa che comunque ci ha portato a costruire un ponte tra noi e chi verrà. Voi siete molto attivi, in modo particolare, soprattutto con i più giovani, con i più piccoli, con le scuole anche. Quali sono alcune delle attività che vogliamo ricordare, soprattutto svolte durante quest'anno, che ormai è agli sgoccioli e si sta per concludere? Sì, io mi occupo proprio dei servizi educativi, quindi la cosa più importante per i bambini in questo quartiere, che per anni hanno assistito a un assistenzialismo quasi terribile, è proprio di far scoprire il loro quartiere sul loro punto di vista storico, artistico, di che fortuna hanno di abitare in palazzi storici, di visitare chiese antiche, casomai anche di aver partecipato ai loro sacramenti, una chiesa antichissima. Quindi per i bambini è un qualcosa di assurdo. Ma non solo i bambini del quartiere, noi comunque facciamo venire tante scuole. Le scuole quando vengono in Rione Sanità, quando vengono nelle nostre catacombe, ora state vedendo un'immagine, restano quasi a bocca aperta. E quindi la cosa più interessante da sottolineare è quello stupore, dove non è soltanto uno stupore infantile, come diceva Lemir Zolla, ma è uno stupore che anche i più grandi restano a bocca aperta nel vedere quello che i loro procedessori, i loro avi hanno fatto. E c'è un appuntamento importante che state promuovendo anche per dare il benvenuto al nuovo anno, al 2023. Ricordiamolo, per chi è lì a Napoli, ma anche per chi festeggia il Capodanno venendo lì in Campania e venendo appunto lì da voi. Qual è l'appuntamento di cui potranno beneficiare? Allora, l'appuntamento sicuramente se venite da noi è visitare le catacombe, visitare il nostro quartiere. Da poco, l'anno scorso, abbiamo inaugurato un presepe meraviglioso, infatti l'abbiamo chiamato presepe favoloso, anche perché qui a Napoli per noi fare il presepe è qualcosa di importantissimo. E abbiamo deciso di aprire le porte della sacrestia della Basilica di Santa Maria della Sanità, ospitando questo presepe dove, oltre ad avere le scene canoniche, classiche, che non si ispira soltanto a quel presepe francescano fatto nel 1223, ma è un presepe che richiama delle favole antiche. E quindi anche qui i bambini, i nostri visitatori, restano a bocca aperta per quanto riguarda la visione. E se dovessimo cercare di individuare alcuni degli obiettivi, dei propositi da raggiungere per l'anno 21? Ma basta, i propositi da parte nostra, ormai pensate che comunque ieri abbiamo festeggiato 200.000 visitatori all'anno, quindi ci sembrava qualcosa di assurdo. Quando incominciamo nel 2010 quasi eravamo dei pazzi nel stare alle catacombe ed eravamo circa 5 di noi con 5.000 visitatori scarsi. Ora stiamo contando 200.000 visitatori, siamo 45 dipendenti, pensate io ne ho 34, il più grande ce n'ha 42 ed è tutta gestita da noi. Quindi questo ci conferma ancora di più che quello che stiamo facendo lo stiamo facendo bene, ma soprattutto quella visione, in parte profetica che è stata all'inizio, è stata una visione ottimale. Dottor Monzelato, un'ultima domanda. Qual è stata la risposta che ha avuto la città, soprattutto quando siete partiti? Si sa, ci sono state sicuramente delle difficoltà, difficoltà che sicuramente possono caratterizzare spesso anche un po' tutto il meridione. Qual è stata la risposta della città e eventualmente in che modo avete affrontato quelli che possono essere stati dei momenti immagino di difficoltà, di debolezza? La risposta da parte della città è stata all'inizio quasi in sordina, non riuscivano a capire quello che si stava facendo. Come vi dicevo all'inizio veramente ci davano per pazzi. Poi piano piano la città l'ha incominciata a capire, anche perché la città è consapevole che come la sanità è uguale come Forcella, come i quartieri spagnoli che sono i quartieri comunque antichi di Napoli che fanno parte comunque di una costellazione che è poi il centro storico, sapevano che comunque questi quartieri sono quartieri antichi e conservano delle bellezze. Quindi la città l'ha capito molto bene, è incominciata a attraversare una strada, perché noi siamo accoccolati su una valle. Quindi se mentre la città di Napoli è composta da colline, noi essendo una valle, ma soprattutto una valle non percorribile tantissimo da macchine, pensate che il nostro quartiere sono circa 35 mila abitanti, ora le persone hanno incominciato ad attraversare questa strada e sono entrati nel rione sanità. Entrando nel rione sanità hanno capito che per anni hanno dimenticato tante cose che stavano sotto al loro maso. Grazie, grazie a Fabrizio Consellato. Noi ricordiamo anche quelli che sono comunque i vostri contatti. La cooperativa, sì, la cooperativa sociale La Paranza Olus, sui social trovate la pagina Facebook, la pagina Instagram Catacombe di Napoli, ma soprattutto trovate il sito web catacombedinapoli.it dove trovate appunto tutti gli aggiornamenti sulle attività e sui prossimi appuntamenti in cantiere da parte di tutti questi giovani che stanno continuando a rimanere sul territorio, ci credono sul territorio, su questo territorio, quello del rione sanità di Napoli ci investono. Grazie ancora per essere stato con noi, auguri di buon anno. Grazie mille, grazie mille, buona giornata. Nel frattempo noi recuperiamo anche, perché non abbiamo dimenticato, il servizio a cura della nostra Maria Pia Picciao Fuoco per ricordare un po' la data di oggi, andiamo indietro di qualche anno, vediamo cosa accadeva oggi e il tempo della rubrica Un giorno è una storia. 29 dicembre 2015, muore Sabino Acquaviva, intellettuale e accademico. Grazie ai suoi studi, negli anni 60 la sociologia della religione venne riconosciuta disciplina scientifica. Nella fondamentale opera L'eclissi del sacro nella società industriale, traccia un'analisi approfondita non soltanto dei sistemi sociali che influiscono e sono a loro volta influenzati dalla religione e formula la teoria della progressiva scomparsa della dimensione trascendente dalla vita quotidiana dell'uomo. Ma questo fenomeno inedito viene da lui battezzato come secolarizzazione. Ulteriori suoi campi di ricerca, sociologia della scienza, sociologia dei mass media e sociobiologia, preside dell'Università di Padova nei difficili anni 70, ne scrisse un'acuta critica in diversi saggi, tra i quali il seme religioso della rivolta. Le sue opere principali sono tradotte e note in tutto il mondo accademico. Noi ci fermiamo adesso nuovamente solo qualche minuto per la pubblicità. Tra poco torneremo con Luca Gianzanti, veterinario, per parlare insieme di quelli che sono i problemi e i rischi per i nostri animali, i cani, i gatti, durante questi giorni di feste, pensiamo ai fuochi d'artificio e botti di capodanno. Se avete domande, curiosità o volete interagire con noi, il nostro recapito lo conoscete, ve lo ricordiamo nuovamente, il 331 7378033. Se avete particolari domande, dubbi o curiosità da rivolgere al dottor Gianzanti, siamo qui, saremo contenti di prendere anche le vostre domande. Ci vediamo tra poco dopo la pubblicità.